Pescara, Fontanelle, Via Caduti per servizio, quartiere che continua ad essere sotto il controllo degli spacciatori e vittima di occupazioni abusive da parte di chi utilizza le case popolari ATER per fini illeciti. È quanto denunciato dalla vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che questa mattina ha convocato una conferenza stampa presente una delegazione di cittadini. Non solo però criminalità, ma anche gatti, pensate, dati alle fiamme. Un fenomeno inquietante. Sì, veramente da diversi mesi stiamo denunciando e assistendo a questa tragedia immane. Gatti dati alle fiamme, bruciati, incendiati, ma anche con i petardi, sparati addosso e ammazzati. Almeno una decina di gatti, alcuni sono stati anche posti di fronte all'incresso, al portone d'incresso di alcune abitazioni, forse in segno intimidatorio, non si capisce cosa. Io ritengo ci siano delle baby gang che fanno di tutto di più, figli dei pregiudicati, dei criminali del posto. Qui c'è ancora spazio di droga dalla mattina fino alla sera, notte, tardi, specialmente nelle serate d'estate. Si arriva fino alle 3, le 4 di notte. Degrado totale. Degrado totale, una terra di nessuno, un far west. Qui è una situazione veramente catastrofe. Cosa servirebbe? Il problema dei gatti incendiati? Io mi domando, qui dieci anni fa io e Nello Raspa abbiamo fatto installare 26 telecamere. Cioè questo è un vero e proprio grande fratello questa via. È possibile che con 26 telecamere non si riesce a scoprire nulla? I video sono custoditi all'interno di una centrale, all'interno dell'associazione? Io dico e pongo la domanda. Funzionano i video? Quel che mi risulta non funzionano le telecamere. Però se non vai a reperire, a recuperare il video entro una settimana, poi si cancellano. Allora questo è il primo punto. Poi unità fissa di polizia H24. Qua non c'è più tempo da perdere. Insomma, gatti bruciati, una vera e propria barbarie, cittadini coraggiosi, chiatta l'uopo, hanno organizzato sabato 18 giugno, ore 21, una fiaccolata per sensibilizzare l'opinione pubblica. Maria Luisa D'Olimpio, presidente Animalisti, volontari Pescara. Trovare i gatti carbonizzati così, io credo che sia necessario ribellarsi a tutto questo. E purtroppo l'unico modo che abbiamo, visto che a causa della paura le persone non vanno a fare la denuncia, è che bisogna protestare, bisogna scendere in piazza, bisogna ricordare quelle creature. Qua non stiamo parlando di furtarelli o di cose, stiamo parlando di uccidere, uccidere delle creature in difese e quindi è importante.